Meteomont è un importante servizio di prevenzione pericolo valanghe, come funziona e in cosa consiste? Il servizio Meteomont è composto in questo caso dal nucleo del primo da montagna, con il caporal maggiore scelto Franza e il caporal maggiore capo Carta Filippo e tutti i giorni lavora nelle valli di competenza, oggi siamo qua nella stazione di Frabosa in Val Maudagna e fornisce i dati ai reparti per la sicurezza delle attività in ambito montagna. A livello pratico questa attività come si concretizza? Allora noi la mattina sulle valli di nostra competenza andiamo a creare la nostra buca dove vediamo all'interno del manto nevoso la consistenza e la durezza del manto quindi con la sonda penetrometrica vediamo la durezza del manto, il peso col carotaggio della neve e la composizione dei cristalli che è quella che determina poi se ci potrebbe essere un distacco del manto oppure no. Un servizio attivo su tutto il territorio nazionale ma per quanto riguarda invece la diffusione sul territorio cuneese? Sul territorio cuneese noi lavoriamo giornalmente per garantire ogni giorno la sicurezza sia ai nostri reparti che alla popolazione fuori che può fruire dei dati che noi mettiamo ogni giorno sul bollettino alle ore 14 su meteomont.org Certo poi le nuove tecnologie vengono insomma in aiuto anche perché i dati di meteomont sono fruibili tramite un'app Sono fruibili tramite un'app meteomont dove lavoriamo noi e l'arma dei carabinieri.